Dalla vetta, nelle giornate più limpide, si possono vedere addirittura i Monti Sibillini, o il Monti Amiata, o parte dell'Appennino Tosco Emiliano. È una montagna affascinante, ma ancora forse non del tutto conosciuta al cosiddetto grande pubblico, ma forse è anche più bello così. Il Prato Magno, che ogni giorno domina le vallate del Casentino e del Valdarno, è lì da sempre ed è parte di uno scenario che ci sembra a tutti normale. La montagna però porta con sé molte storie e bellezze, come quella della Prima Guerra Mondiale, quando sulla vetta Herbert John Lewis Hinkler si schiantò con il suo aereo nel tentativo di viaggio dall'Australia all'Inghilterra. La croce, che sovrasta tutto ed è visibile da molti chilometri di distanza, è ormai vicina ai 100 anni di età. Fu infatti inaugurata il 2 settembre del 1928. Rimase lì fino al 1966, quando il maltempo fece crollare la parte alta, che poi fu risistemata due anni dopo. Il 27 luglio 2013, poi, fu fatta l'inaugurazione del restauro della struttura e della zona circostante. Il punto più alto dove si trova appunto la croce è 1592 metri, altezza giusta per poterci installare anche delle piste da sci. Anche se la bellezza della montagna selvaggia e molto toscana, forse ne risentirebbe. Degli impianti sciistici erano presenti fino a fine anni Ottanta nella vetta di Secchieta, poi dismessi. D'estate il Prato Magno si popola di escursionisti, occasionali visitatori da gita fuori porta, ma anche di molte persone che decidono di passare la notte in tenda, cosa possibile ai piedi della croce, in uno spazio attrezzato e gratuito. Ultimamente è stato anche istituito un bus, che dal Valdarno arriva fino alla vetta ogni giovedì mattina e riparte la sera. Una montagna però vasta che nasconde molti tesori e luoghi inviolati, che d'estate è il luogo ideale, in molti casi a pochi chilometri da casa, per trovare pace e refrigerio, senza inquinare e respirando aria buona, rispetto alle ormai industrializzate vallate che si trovano ai suoi piedi.